Perché questo è sostanzialmente il muro di una frontiera, una frontiera che non dovrebbe esistere perché è dentro di noi, dentro la nostra Europa. Così come muoiono nella frontiera i Trieste o vengono torturati nei Balcani i migranti o muoiono anche in Val di Susa dove andrete questa sera o a Monginevro o a Brianson o muoiono nel canale di Sicilia e a Ceuta e Meiglia o nelle Canarie, muoiono perché queste mura esistono, perché qualcuno ha deciso che queste mura dentro e fuori devono esistere. Io credo che tutti noi siamo qui perché queste mura invece non devono più esistere, dobbiamo trovare il modo di buttare giù queste mura? Ora, lo troveremo questo modo, lo troveremo perché è l'unico modo in questo momento per riaffermare in questo mondo disgraziato che siamo degli esseri umani. Finché queste mura esisteranno noi dovremo continuare a lottare per abbatterle e dovremo trovare tutti i modi, ma veramente tutti i modi possibili per abbatterle perché forse questa è una delle ultime occasioni che abbiamo ancora per tentare di essere umani.